Bene, direi di iniziare. Intanto vi ringrazio di essere qua, spero che stia andando bene la giornata con R2B. Oggi qui con noi abbiamo Alberto di Cognac, che è un'azienda americana che fa servizi e prodotti per visual recognition, una piattaforma in realtà per fare applicazioni di visual recognition in ambito industriale, poi ci racconterà ovviamente meglio Alberto. Siamo entrati in contatto con lui, con Alberto, che come vedete dal nome è italiano, quindi è molto più semplice anche interagire con un'azienda straniera tramite una persona che è qua in Italia, tramite le varie attività che facciamo in AlmaCube, in generale sul tema startup, in particolare sul tema 4.0, in realtà molto interessante che appunto abbiamo il piacere oggi di ospitare qui con noi. Perché AlmaCube fa questo genere di attività ormai appunto lo sapete, perché immagino che abbiate visto i precedenti incontri, quindi intanto ciao Antonio, l'obiettivo è quello di aiutare da un lato le startup a entrare in contatto con le aziende, quindi a far crescere le startup sia italiane e non, aiutarle a portare innovazione sui nostri territori e quindi aiutare dall'altro lato le aziende che invece già qui sono sul territorio consolidate e mature e che vogliono quindi fare innovazione e che vogliono crescere, vogliono rimanere competitive, efficientare i propri business, ampliare i propri servizi ai clienti e così via. Quindi per noi è un modo per fare, per perseguire la nostra missione e di far crescere l'innovazione in maniera molto più trainata dalle esigenze di mercato del nostro territorio. Sapete che Alma Cube è l'incubatore di Confindustria Emilia e Università di Bologna, quindi abbiamo una missione molto legata al territorio e quindi cerchiamo di portare qui le tecnologie più interessanti appunto per il nostro ecosistema industriale. Dalla transizione digitale, da quella che viene appunto definita Industria 4.0 passano tante sfide, sfide di carattere sociale, economico, di competitività e quindi adesso insomma è tutto pronto perché le tecnologie ci sono, sono mature, forse sulla rete di infrastruttura qualcosa ancora c'è da fare ma comunque tutto agirà, tutto diciamo ostacoli non assolutamente insormontabili, ci sono gli incentivi, speriamo che Recovery Fund dovrebbe proprio essere così, dia una grande mano, un grande impulso a questa ondata e quindi ecco siamo appunto qua per provare a dare una mano a dare un'ulteriore spinta dal nostro piccolo diciamo. Basta, vi ringrazio ancora, vi ricordo che appunto abbiamo adesso la presentazione di Alberto che sarà anche, che onterrà anche dei casi pratici e anzi su quello ci piace dare il maggior focus. Alla fine ci sarà un momento di domande e risposte ma anche in itinere, sentitevi appunto liberi di scrivere e anzi ci fa piacere così rendiamo anche più interattiva, aiutate anche Alberto ad andare magari su quei punti che sono più di vostro interesse diciamo. Alberto ti passo la parola e noi ci vediamo dopo. grazie mille Nicolà e grazie ad Almaty per avermi invitato, è un piacere essere qua e come hai detto io passo solo la mia presentazione ma assolutamente cerchiamo di renderla interattiva. Il mio obiettivo per oggi è di cercare di stimolare l'interesse non necessariamente incognac ma in quello che potrebbe essere eh una parte molto importante per le aziende per essere competitive in futuro. Quindi il adesso vado a condividere la mia presentazione eh ma l'obiettivo di oggi è non è tanto promuovere Cognac quanto eh cercare di mettere essere il grillo parlante dell'industria 4.0 se si può usare questa definizione. Quindi il tema è proprio in l'investimento per investire in intelligenza artificiale per quale motivo? Una brevissima introduzione su Cognac è un'azienda ehm noi abbiamo creato una piattaforma che utilizza l'intelligenza artificiale e il machine learning e per quelli di voi che hanno già avuto esperienze con intelligenza artificiale e vision vi chiedo la cortesia di cercare di dimenticare tutto quello che sapete e ripartire da zero. Perché? Perché il modo in cui questo funziona è eh fatto in modo intuitivo, non ci bisogna scrivere codici e non bisogna comprare hardware dedicato, non bisogna comprare telecamere dedicate, specificate su un solo use case. Si parla di quello che definiamo super human vision, quindi la possibilità di insegnare a una macchina, di fare lavoro di un ispettore di qualità con grandissima efficienza. L'azienda californiana esistiamo da più di sei anni ormai e ehm stiamo crescendo molto velocemente. Io sono eh sto creando un team in Europa, abbiamo al momento eh cinque persone incluse me ehm anche tecniche e lavoriamo con grandi grandi gruppi come SAP o entity data in Italia per quelli che di voi che la conoscono, una grossa azienda di servizio di integrazione e siamo su una serie di acceleratori come Sinerlip che è di ABB, quindi c'è la parte robotica, AlmaCube che c'è di eh oggi sulla su partner eh su partner network di SAP ehm e anche di plug and play, quindi cerchiamo di fare arrivare la nostra voce ovunque. Ehm quello che ci rende diversi è quando vi ho chiesto di dimenticare cos'è cos'era l'intelligenza ufficiale è che la nostra piattaforma impara e crea automaticamente, indipendentemente il eh il i modelli di intelligenza artificiale che sono richiesti per quel tipo di lavoro, quindi non usiamo librerie preesistenti, non abbiamo bisogno di decine di migliaia di foto, ce ne bastano qualche centinaio e i risultati sono praticamente immediati. Nel giro di qualche settimana usando un set di foto appropriato si crea eh un modello che permette alla macchina di riconoscere praticamente qualsiasi cosa. Quindi il modo più semplice che posso presentarlo è se io posso vederlo o con i miei occhi in 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 reale o su un'immagine allora la mia la macchina sarà in grado di individuarlo perché è il concetto che io vado comincio il mio lavoro vado in fabbrica primo giorno il mio collega più esperto mi dice guarda vedi questa è una cosa che non va bene questa è la cosa che va bene. La macchina funziona esattamente così. Quindi è disegnata per essere poi integrata in sistemi che hanno un controllo di qualità quindi si produce degli oggetti magari non c'è il controllo di qualità automatizzato quindi c'è un operaio un ispettore che ogni tanto va lì perché obiettivamente il problema è quello ripetere la stessa stesso controllo sullo stesso oggetto per sei ore otto ore è umanamente impossibile quindi l'errore si annida lì. E cosa di cosa stiamo parlando fondamentalmente? Stiamo parlando di ROI, di return investment, di investire in una tecnologia che permette di migliorare il sistema quindi andare a lavorare su quei punti dove magari l'azienda perde soldi semplicemente perché qualcuno non riempie una cesta di parti alla fine del suo turno e il turno successivo nessuno lo sa e questo costa centinaia di migliaia di dollari alle aziende per cui lavoriamo. Il concetto è lo stesso perché poi noi nel corso del tempo siamo riusciti a creare un range di soluzioni che lavora benissimo sia l'intelligenza artificiale la stessa però funziona sia su problemi più semplici che su problemi complessi quindi mi piacerebbe capire dopo nel Q&A quali tipi di problemi avete e vedere se poi si possono lavorare perché ad esempio un nostro ho degli esempi più specifici ma ad esempio uno dei nostri grandi clienti e se abbiamo tempo vi faccio vedere come funziona questo sulla piattaforma produce portiere di automobili di quelle dei pickup americani ne fa una ogni 10 15 secondi passano sul rullo ci sono decine di persone cinque per parte che devono ispezionare e cosa succede che devono trovare degli splits delle piccole crepe che sono pochi millimetri su un oggetto che è due metri quadri con una luce variabile quindi il risultato è che migliaia di portiere con difetti più o meno visibili arrivano vanno avanti nella produzione fino a quando non vengono ovviamente prese ma nella produzione in qualsiasi processo il la cosa più importante è trovare il difetto appena possibile perché prima si trova più si risparmia ma ci sono poi la soluzione è non è specificata non è dedicata a un a una sola applicazione quindi e andiamo a lavorare su sul kitting per bobcat quindi loro hanno un problema di eh devono montare motori o palle di 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 trattori ogni pala ha dei pezzi diversi hanno uno stabilimento dove hanno tutti i pezzi in uno stato in america e le le palle le assemblano in un altro stabilimento da un'altra parte dell'america e ci sono delle persone che devono andare a preparare questi kits eh con i dadi bulloni e questa operazione manuale dove anche lì ci sono alti c'erano altissime probabilità di errore cosa succede se mi arriva il bullone sbagliato in eh linea eh la mia linea si ferma perché non posso finire col motore e questo costa mi costava centinaia di migliaia di dollari poi ovviamente ci sono anche altre cose più diciamo diciamo eh più semplici ma molto complesse tipo fare un'analisi del carico di un di un camion eh guardando ai i vari tipi di ehm eh di fusti di albero che ci sono sopra che ovviamente trasportare fusti albero costa soldi bisogna verificare che la qualità sia buona quindi questo è un è un progetto enorme che sta sta verificando e sta andando avanti in America e poi il il nostro progetto più significativo è quello dove eh per BNSF che dipende da come si vedono i numeri eh la prima o la seconda azienda eh di trasporto su ruota ferrata in in America è che ehm avevano speso una fortuna eh con sistemi tradizionali per cercare di trovare i difetti e da quando usano il nostro sistema riescono a vedere delle piccole eh eh crac crac come si dicevi feriture dentro le ruote mentre il treno passa quindi per BNSF controlliamo ventidue milioni di ruote all'anno non vi spaventate di questo perché poi alla fine si può il la stessa efficienza si può fare guardando cinquanta pezzi al giorno tipo un'altra azienda dove eh usano il nostro sistema per verificare che questa trasmissione molto complessa di automotive sia perfettamente eh montata prima di venire spedita al al all'OIM dato che l'OIM aveva riportato vari problemi di qualità quindi in quel caso usano la nostra tecnologia cominciamo con una una polizia di assicurazione perché fanno le immagini il sistema di verifica crea un report e dice caro eh io caro cliente io ti ho mandato una cosa che è perfettamente assemblata come funziona è è direi quasi banale ci servono immagini che vengono poi processate mandate nel cloud il cloud crea il modello e quindi questo modello posso poi eseguirlo nel cloud per sistemi diciamo dove non c'è eh una bassa non c'è una la latenza non è importante quindi se io posso caricare le immagini la sera e voglio vedere cosa è successo la mattina questa è una soluzione ideale per invece sistemi di produzione dove come dicevo eh c'è una la linea produce una portiera ogni 10-15 secondi il ciclo è molto veloce allora in quel caso si usano macchine edge che vengono collocate a fianco della linea e in quel caso ehm eh permettono di fare il controllo in tempo reale la cosa importante poi ovviamente stiamo parlando di computers quindi i computers eh lavorano con questo tipo di immagine digitale quindi in molte applicazioni andiamo a utilizzare infrarosso e raggi x e perché anche lì tante operazioni cosa succede che io monto la mia batteria o il mio sistema di riscaldamento dentro il sedile e poi non so se è stato montato correttamente sono sistemi pericolosi perché sono stati collegati correttamente possono provocare danni se si lavora nell'automotive c'è il dramma della delle recall quindi anche lì eh è un sistema molto efficiente per controllare che i pezzi che sto spedendo siano eh controllati da una macchina che poi può essere supervisionata da da un operatore certamente quindi banalmente quello che quello che ci serve è per creare il modello eh un po' di immagini di quella parte di quell'oggetto e con variazioni di quell'oggetto quindi 50 pezzi diversi quindi si possono vedere che aiuta a creare eh la più tolleranza alla luce piuttosto che alle sfumature piuttosto che alla vera morfologia dell'oggetto e poi lo stesso numero di difetti tra quello che ci rende veramente diversi è che il sistema noi possiamo andare a prendere un oggetto e poi dire io in questo oggetto posso avere svariati tipi di problemi tipo eh posso avere un una una bolla piuttosto che una crepa piuttosto che problemi di usura problemi di geometria del sistema il l'analisi viene fatta su tutta la matrice usando una sola immagine quindi c'è una fortissima efficienza eh sulla parte dell'hardware quindi questo diventa un argomento interessante per aziende che hanno un budget limitato e quindi perché tante volte il il problema di eh di utilizzare questa tecnologia che richiede una spesa molto alta sulla sull'hardware sulle telecamere sull'illuminazione quindi perché i sistemi tradizionali hanno bisogno di avere un ogni telecamera dedicata a un problema specifico mentre noi con una telecamera o poi ovviamente dipende dall'oggetto dalla geometria comunque riusciamo a lavorare col minimo numero di telecamere possibile quindi è una parte molto importante sul lato di investimento a quel punto quello che succede è che sicuramente tutte le aziende bene o male che sia hanno un controllo qualità qualcuno che controlla dica ogni tanto vado a puntarci almeno un occhio per vedere se la macchina stampa non sia impazzita no quindi eh in realtà questo è il lavoro che poi la macchina nostra va a fare perché il chi è l'esperto di che controlla questo va a insegnare alla macchina a riconoscere i difetti che altrimenti magari non verrebbero visti a quel punto la macchina ogni volta che viene viene detto sia hai visto il difetto o no hai visto hai preso un abbaglio la macchina impara perché comunque questa è informazione e quindi nel corso del tempo la macchina diventa sempre più efficiente al punto tale che riesce a gestire la gran parte dei difetti e una piccolissima parte deve passare attraverso eh il l'esperto ora un punto molto importante che questo permette anche per le aziende più piccole dove la vera qualità e il valore dell'azienda è l'esperienza della qualità e che risiede con le persone che hanno lavorato più a lungo nell'azienda quindi c'è la possibilità di trasferire questa informazione da personale alla macchina e ma permettere al personale di concentrarsi sui difetti più difficili quindi permette anche di andare a fare delle valutazioni a monte del sistema per vedere se magari il le macchine i tools utilizzati possono essere migliorati se sono loro che generano il problema quindi ci sono i due vantaggi uno di andare a fare un contro di qualità e eliminare i difetti i prodotti con difetti o andare a classificare che quindi questo non è solo un problema di binario se è difettoso o no ma ci si può classificare perché la macchina poi eh come farebbe un operatore dice ma questo è un difetto grosso questo è un difetto piccolo questo posso magari dargli una pulitina e va benissimo quindi sono tutte queste cose che poi addizionate nel corso di una settimana di un mese di un anno producono il ritorno sull'investimento quindi eh il il ragionamento di partenza è dire se la mia azienda può migliorare dove posso andare a lavorare posso andare a lavorare sul controllo qualità se io se io faccio qualcosa sul mio controllo qualità oggi sono in grado di calcolare il mio ritorno all'investimento quanti mesi ci metto quanti anni quante settimane ci metto a rientrare nel mio investimento per quella fine il il nostro modello commerciale è eh di tipo eh su licenza annuale quindi eh è proprio un investimento capex quindi è come aggiungere una macchina sulla linea che eh che però permette di migliorare i risultati e questo è l'esempio di come appare l'interfaccia e infatti io pensavo a questo punto se è possibile piuttosto che farvi vedere le slides di farvi vedere come funziona in un secondo come funziona in realtà questo sistema perché è eh è molto più interessante vederlo sulla piattaforma quindi cosa succede questo è un un esempio tratto da eh uno dei nostri progetti che facciamo con questo grosso OEM in America allora il il problema di fondo qua è che l'oggetto da ispezionare è molto grande quindi richiede un numero molto grande di telecamere quindi stiamo parlando di uno dei più grandi gruppi automobilistici non dico che ci vuole sempre questo numero di telecamere perché ci vogliono tante telecamere e perché la portiera che andiamo ad analizzare ha eh ha la possibilità di avere molti difetti quindi in questo caso eh le telecamere sono eh addirittura triplicate in punti dove statisticamente ci si aspetta più eh difetti e quindi questo è un oggetto molto complesso di quelli che viene fatto ogni quindici secondi immaginate eh il personale che deve guardare questa cosa in dieci secondi è molto complesso anche perché eh una delle cose è che loro vedono tutto in una volta sola la macchina riusciamo a scomporlo e quindi andare a vedere nei dettagli ma se notate il la dimensione della di tutta l'immagine è cinque megabytes quindi le telecamere che andiamo a usare sono ognuna produce circa cinquecento kilobytes quindi stiamo parlando di telecamere negli anni dei dei quaranta cinquanta sessanta megapixel sui telefonini stiamo parlando di cinque dieci dodici megapixel quindi tutto sommato telecamere semplici ma quello che succede è che quando io eh creo un'applicazione eh di ehm che mi va a trovare quello che loro chiamano split lo split è una piccola crepetta che mi eh mi crea il problema quindi cosa fa la mia macchina mentre eh appena io stampo l'oggetto viene fuori gli faccio una foto e in tempo praticamente reale vado a la macchina va a dirmi guarda che io vedo un oggetto qua che mi sembra il difetto che tu volevi trovare in questo caso è verde solido perché eh la macchina è al cento per cento sicura che questo sia un difetto ora questo difetto non deve essere sempre nella stessa posizione perché io ho insegnato alla macchina che cos'è un difetto quindi la macchina me lo va a cercare me lo predice su tutta l'area quindi questo difetto in questo caso è qua in questo caso è qua è una cosa una cosa piccolina che si intravede appena questo sarebbe molto difficile da vedere per un operatore ci sono altri esempi tipo questo è un altro esempio dove questo è un problema classico proprio nella curvatura quindi cosa mi permette di fare e appena vedo questo oggetto io la macchina mi può dire subito all'operatore dice guarda che quello che sta passando accende una luce rossa l'operatore senza dover fare nulla lo prende lo mette su uno scaffale questo è il caso più semplice no dico io ho trovato ho trovato il 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 difetto benissimo però in realtà eh quello che succede è che i difetti eh non sono sempre binari cioè non sono sempre guardate che qui non sono sempre cercando di diventare eh non sono sempre ecco qua eh non sono sempre ehm eh nero e da buttare o da tenere in realtà c'è la classificazione quindi il mio esperto il valore aggiunto del mio esperto in linea è che mi dice se i pezzi sono in realtà non sono dei problemi o sono dei 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 rework e vi faccio vedere cosa vuol dire un rework è che la macchina mi ha visto quello che in realtà se poi andiamo a vedere è una una piccola dentatura di questo oggetto che in realtà qui è un pixel quindi la macchina dice ma io vedo questa righettina qui e l'operatore giustamente dice no questo in realtà io ci do non sono l'esperto di metallurgia ma a occhio direi che ci do una eh una pulitina quindi ho la possibilità di dire eh in tempo reale o in tempo eh non reale quindi queste informazioni mi arriva comunque nel mio database e posso dire questo è un rework quindi lo mettiamo sullo scaffale del rework nel caso in cui l'operatore mi abbia detto ha dato la risposta sbagliata che era uno scrap io posso andare lì e dire può sempre tornare sulla macchina e dire no l'operatore si è sbagliato devi utilizzare questo questo in questa informazione quindi cosa posso fare posso fare un livello a creare un livello molto alto di classificazione perché eh su ad esempio sui treni eh ci sono per ogni ruota ci sono tipo venti tipi di difetti che possono venire fuori e quello solo l'esperto lo sa fare quindi noi forniamo la piattaforma che permette di creare il tool di ispezione ora quindi questo lo ritorniamo e il il sistema e il modo in cui il sistema viene creato è estremamente intuitivo quindi io creo eh questa potrebbe essere la mia telecamera che mi manda le immagini in tempo reale questo è il il l'applicazione che eh abbiamo abbiamo già forniamo già eh le librerie quindi i vari tipi di classificazioni questi sono i tipi di applicazioni che ho creato ma ne posso creare quante ne voglio perché la cosa super interessante non so se voi avete notato ma è che come farebbe la logica di un operatore dice io ho tutti i pezzi voglio cercare lo split una volta che ho ho visto lo split vado a classificarlo quindi c'è il mio è quello che chiediamo intelligenza artificiale che crea intelligenza artificiale perché il mio il mio il mio eh il mio dataset creato come output della mia applicazione è un nuovo dataset che posso utilizzare per andare a vedere che cosa è successo su quel eh su quell'oggetto ma la cosa ancora più interessante e ritorno e ritorno su questo è che per ogni per ogni oggetto quindi io vado qui dico questo è chiaramente uno scrap però io e quello che vi volevo dire è che io per quell'oggetto ho creato un data record dove mi dice quando ho fatto la foto con che telecamera chi mi ha detto che era uno split e chi mi ha detto che era uno scrap quindi ho creato quello che si chiama un data record quindi se io sono un fornitore e mando il pezzo al mio cliente per ogni per ogni eh batch di prodotti posso fornire l'informazione su quella dettagliata che la mia data la macchina quindi in quel punto lì è quello che parlavo di eh polizza di assicurazione questo è il modo in cui secondo me eh si riesce a coniugare l'esperienza del personale la tecnologia di intelligenza artificiale quindi creare un sistema che può solo migliorare nel tempo con un investimento molto molto limitato ritorno al alla presentazione quindi eh quindi questo è per quello che sono andato sul sistema perché è molto più qui abbiamo l'esempio dei camion ma è quello che mi piaceva data che ho visto che abbiamo persone che fanno lavorano sul manufacturing in generale quindi la eh quello che poi lo strumento offre è una una le metriche sulla qualità del dell'insegnamento quindi si possono tarare i vari parametri quindi questo è un discorso ma fondamentalmente la linea il cerchio rosso vi fa vedere che la macchina continuamente crea nuovi modelli e i modelli quando c'è un delta significativo vengono automaticamente utilizzati per fare l'espezione successiva quindi il difetto che non sapeva al ciclo precedente e gli ho detto che era un difetto al ciclo successivo verrà trattato automaticamente e quindi questo vi ho fatto vedere praticamente come funziona in linea eh il customer case e qui il loro risparmio è sui circa otto milioni di dollari per linea e ne facciamo una quindicina ma non costiamo otto milioni di dollari mi piacerebbe molto ma questo è l'esempio che magari alcune aziende che ci stanno ascoltando hanno questo problema il problema di avere non sapere esattamente cosa c'è in magazzino o cosa viene consegnato cosa viene spedito quindi noi in questo caso eh andiamo a fare una fotografia del contenuto della scatola dopo che abbiamo classificato circa ventimila oggetti quindi il problema non è andare a riconoscere l'oggetto singolo ma la combinazione dentro la scatola di dieci quindici oggetti che poi vengono da un database di ventimila oggetti quindi ma anche lì la la differenza fondamentale che fare il training di artificiale intelligenza artificiale i sistemi passati richiedeva di fare di creare un modello con tutte le permutazioni e con tutti gli errori per quello ci volevano mesi e un sacco di tempo di scrivere codici in questo caso ogni volta che si nota un difetto cioè che manca un dado il dado è sbagliato quella foto diventa l'esempio per la macchina per sapere in futuro quindi si va a creare un database che in realtà sugli errori che succedono più frequentemente o anche meno frequentemente quindi se poi io comincio a fare kits per un modello ho fatto il modello 20 20 comincio a fare il modello 20 21 non riparto da zero ma posso fare il training nello stesso modo velocemente quindi per quello che non solo mi risolve il problema adesso ma mi dà una soluzione molto flessibile andando avanti nella nella mia azienda questo vi ho parlato di bnsf questi sono il controllo dei dei carichi dei dei degli alberi dei fusti della legna per bnsf facciamo il controllo di 22 milioni di ruote in tempo reale al mese e con telecamere su video gli facciamo 30 mila circa 50 mila chilometri di ferrovia per una linea ferroviaria avere un diragliamento costa tra i 2 e 5 milioni di dollari mi sembra così 2 2 5 milioni di dollari e loro ci hanno detto che dagli ultimi 12 mesi hanno evitato un centinaio quindi mi ha fatto risparmiare una cifra enorme qui c'è una carellata di vari tipi quindi di case che abbiamo coperto quindi stampa in certamente paint il caso interessante del dei pneumatici non è tanto per i pneumatici ma il fatto che se avete oggetti che sono arrivano escono in in posizioni diverse il sistema è in grado di ricalibrarsi e trovare non solo la scritta sul pneumatico piuttosto che sul sul pacco merci la parte di logistica dove si può fare la foto al al camion e si può vedere creare diciamo la bolla digitale no quindi posso mettere una telecamera sulla l'area di carico di scarico del tele del camion e una telecamera che mi fa l'immagine della 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 targa si insegna gli oggetti che vengono scaricate e caricati e la la macchina mi crea una bolla digitale che poi posso andare a confrontare con la bolla che è arrivata col camion tante volte succede che lo stesso autista che deve scaricare quindi ovviamente hanno fretta e dicono beh io sono arrivato devo scaricare non è il mio problema cosa ne fai il mio problema è portartelo qua quindi arrivo scarico poi te lo sbrighi tu e abbiamo clienti che hanno centinaia di motori sparsi per il mondo perché è successo questo clienti che hanno gli arrivano rotoli di una due tonnellate di acciaio che costa mi tre mille mille duecento dollari l'uno arriva il camionista di scarica se ne va perché deve fare il prossimo giro e questi ogni volta che sbagliano sono mille dollari ne usano centinaia di migliaia all'anno alla fine hanno un ammanco che solo per un impianto e 600 mila euro quindi mettendo un sistema che controlla doveva finire la roba risparmiano quasi istituzionalmente 600 mila euro quindi sono questi discorsi che andiamo a lavare poi ci sono il controllo dei containers questo è l'esempio di quello che facciamo su sulla ferrovia il track nato bolt quindi sono dadi e bulloni che possono saltare il caso dei containers ma anche nella metallurgia in generale andare a valutare la qualità della corrosione sui prodotti e sulla produzione di manufacturing ad esempio ci sono degli esempi interessanti sul controllo della qualità di prodotti di cibo quindi che il cioccolatino sia sistemato correttamente dentro la confezione che sia correttamente preparato e che non ci siano biscotti rotti non parlavo con un amico che lavora in una condizione di più piadine industriali e hanno problemi dove tante piadine arrivano cotte o sformate e ne fanno 100 al minuto non so quanto costa una piadina ma dico se ne arrivano 20 sbagliate per ciclo e i conti si fanno in fretta quindi se io becco la piadina che è stata messa male e la tolgo invece di farla cuocere nel forno ho risparmiato quel tempo di cottura quindi sono tutte cose che si vanno a dizionare o non ho trasportato una piadina che poi non verrà venduta sullo scaffale sono anche poi adesso con il covido ovviamente ci sono problemi di controllare che ci personale porti la mascherina speriamo che il covido vada via però sono altre cose come controllare che abbiano il casco il live is best tutte cose che possono essere molto importanti ovviamente dentro la logica del gdpr quindi nel momento in cui vado a fare a salvare questa informazione il il gdpr mi impone che tutto archiviando viene cancellata quindi viene analizzata come funziona in arrivare in fabbrica è la parte il modello viene creato nel cloud è un problema che richiede bassa latenza la soluzione il computer edge che poi anche va a inserirsi in contesti dove magari tipo più militari o parlavo con un'azienda che produce fa l'analisi di deve fare l'analisi di delle barre di uranio dentro i reattori nucleari e loro ovviamente non vogliono avere questa informazione che circola su internet e quindi lo facciamo internamente dentro loro firewall però ci sono tutte quindi sono tutte le soluzioni che permettono di lavorare con soluzioni più semplici dove magari l'informazione non è così importante quindi posso lavorare direttamente sul cloud e ho un costo molto basso mi basta una telecamera ed educare il sistema dove ho la latenza c'è un investimento sulla parte di edge ma l'edge computer lo forniamo come parte della licenza quindi anche lì non c'è un costo hardware il costo noi siamo un'azienda che fa software il computer è un male necessario come si dice oppure per aziende più grandi dove c'è di solito il dipartimento di it che impone sicurezza e di trasmissione di realtà questo il sistema può essere trasferito tutto all'interno del firewall per aziende un po più grandi ma anche più piccole perché ci sono due casi la stessa azienda che dice prova su una linea e dice però funziona allora posso metterlo anche sulla seconda linea quindi in quel caso lì il mio cloud mi permette di ampliare e supportare quanti edge flows voglio oppure se io sono un'azienda che ha magari stabilimenti che producono le stesse cose sparse per l'italia per il mondo dove possono essere posso andare a clonare la stessa applicazione quindi ho un vantaggio enorme perché la stessa applicazione che ho sviluppato per la prima linea la posso andare a applicare sulla seconda sulla terza ovunque essi siano poi questo è il vantaggio di lavorare col cloud quindi lì c'è il ritorno investimento ancora più alto perché il costo di avviamento di una seconda una terza linea è decisamente più basso il labuto lì per quelli che sono interessati avete i miei contatti noi lavoriamo in modo molto trasparente quindi come dicevo all'inizio se siete un'azienda che ha problemi di controllo qualità o comunque di gestione in magazzino o comunque ha notato che alla fine dell'anno ci sia un ammanco e nessuno capisce bene da dove venga fuori una delle possibilità è di fare un investimento e noi abbiamo l'approccio è di dire benissimo discutiamo se questo è un problema che possiamo risolvere quindi se si può fare lo facciamo altrimenti non facciamo perdere tempo nessuno e se si può fare normalmente si passa attraverso una fase di proof of concept che vuol dire ci date un po di immagini creiamo un'applicazione un modello e vediamo il risultato nel corso di due tre settimane con un costo lato dell'azienda molto basso perché la cosa più complicata è trovare le immagini dei difetti e trovarne un numero minimo necessario e poi la parte di sviluppo tecnico è l'equivalente di un workshop di un'ora per impostare avere un po di training e poi vedere come il risultato se poi funziona ora si può fare impostare un discorso più su fare uno sviluppo di linea e via dicendo quindi per ricapitolare spero di essere rimasta dentro il tempo giusto noi siamo un'azienda che fa intelligenza artificiale per visual inspection per ispezioni visive quindi è una società completa end to end con che nei casi appropriati crea grande ritorno investimento quindi noi ci occupiamo di creare di usare mettere il cervello artificiale a disposizione vostra per creare un'applicazione che vi permette di migliorare il sistema e quindi in modo senza avere bisogno di avere investimenti aggiuntivi con tecnici software sviluppatori vi dicendo quindi è un modello aperto con un'infinità di applicazioni se se voi potete vedere i vostri occhi allora la nostra macchina può vederlo in un'immagine un video e a quel punto si può vedere se il se possiamo lavorare assieme e con questo vi ringrazio e possiamo magari passare grazie mille Alberto grazie mille è sempre interessante io poi ne avevamo già parlato di cognac ma ugualmente è stato interessante anche per me dal benvenuto a chi ci ha raggiunto in itinere e tra l'altro purtroppo so che c'è stato un problema di linkaggio proprio con la piattaforma r2b e quindi insomma spero però che abbiate tutti goduto un po dell'incontro e allora come come anticipavamo potete scrivere direttamente in chat se avete qualche domanda per capire appunto se può essere applicato ai vostri casi o per qualsiasi curiosità intanto ti chiedo io Alberto una cosa più diciamo generale per le aziende diciamo di taglia piccola media quali sono gli ostacoli che solitamente tu incontri e che quindi e quindi quali possono essere alcuni consigli da dare ai nostri ospiti per come dire agevolare effettivamente l'introduzione di queste tecnologie in azienda fare avviare il dialogo internamente all'azienda e quindi effettivamente riuscire ad attrarre quel valore che voi potete proporre sì no questa è un'ottima domanda il diciamo che il punto di partenza è come accennavo prima e capire se ci sono delle parti dell'azienda che potrebbero essere migliorate cioè la domanda a porsi è qual è la differenza tra non fare nulla e avere quei problemi oppure rischiare e fare un investimento e vedere quanto questo investimento mi quanto ci metto a rientrare l'investimento e a generare un margine che altrimenti facendo nulla non avrei vi spiego meglio il ovviamente se parliamo di aziende medio piccole parliamo di fatturati che sono magari sul milione tra un milione e cinque milioni all'anno immagino quindi in questo caso è la differenza tra fare un avere un margine ma non avere il margine e diciamo molto non si va a toccare problemi di di cash flow e via dicendo quindi è molto importante essere in grado di avere prodotti di qualità di cui l'italia mi vanto sempre con i miei con i miei colleghi l'italia è famosa per produrre qualità nel mondo quindi l'investimento in questo momento è di utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare il processo in generale e questo non deve essere visto come un processo un diciamo una cosa a breve termine ma come un investimento che permette di migliorare l'azienda nel momento in cui io libero riesco a creare un margine e un ritorno sul mio investimento ho creato un margine che prima non avevo semplicemente perché magari facevo dieci pezzi rotti al mese questi poi mi finivano nel caso peggiore mi finivano al mio cliente il mio cliente mi non era contento quindi quindi c'è anche un fatto di migliorare la competitività e quindi in modo molto onesto e trasparente dico bisogna fare i conti dire se se faccio nulla cosa succede se investo 50 mila euro quale scuole quanto ci rimetto quanto ci metto a rientrare in 50 mila euro di migliori di controllo qualità la domanda è questa quindi siamo non stiamo parlando di cifre enormi ma stiamo parlando di cifre che sono stiamo parlando di capex quindi sono cifre che possono essere messe a bilancio e spalmate nel corso di due tre anni quindi 50 mila euro di investimento o qualcosa di quel tipo alla fine mi costano il controllo di qualità su un processo un processo anche semplice mi costa mille duemila euro al mese e quanti pezzi beccati che non finiscono a valle a monte del progetto mi sono equivale è un conto molto molto semplice senza considerare poi ovviamente ci sono tutte le agevolazioni del caso quindi anche esatto esatto quindi c'è in certi casi comunque il covid penso che resterà comunque formerà dei problemi a lungo termine quindi magari un problema che risolvevo mettendo tre persone a fare il controllo qualità linea fine linea adesso non posso avere tre persone in un metro quadro o per un po di tempo sarà impossibile quindi o avere tre persone per tre turni di otto ore l'uno che mi controlla come quindi bisogna fare in questo ragionamento quindi sull'investire sulla sull'automazione e comunque fattenere questo su questo è un tema molto forte da me comunque tenere l'esperienza l'informazione che ho creato nell'azienda è quello il mio valore grazie mille alberto e comunque riceverete sicuramente ecco i contatti anche di alberto se 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 vorrete appunto approfondire se vorrete approfondire anche con noi in generale sulla tematica scriveteci altrettanto diciamo dateci anche feedback diciamo su il taglio che stiamo dando ai nostri alle nostre iniziative quindi questo ciclo di webinar poi abbiamo citato prima il questionario di auto assessment e poi altre iniziative che che stiamo mandando avanti e allora se non ci sono altre domande io comunque vi ringrazio riceverete comunque scusa scusa al volo se ti interrompo mando in questo momento in chat un paio di link che possono essere utili per chi si è collegato in itinere dalla piattaforma di r2b e dove il primo lo trovate è il form di registrazione per i prossimi incontri che ne mancano ancora 2 3 da programma e sempre all'interno del ciclo pil 4.0 e il secondo invece è relativo proprio al al form che citavi tu in introduzione nick ecco scusa solo questo grazie mille ecco quindi e poi avete anche il contatto mail della nostra unit in alma cube fino a che lì potete scriverci per qualsiasi informazione bene grazie ancora spero abbiate un buon proseguimento all'interno di r2b ringrazio soprattutto alberto grazie a voi e ci vediamo al prossimo incontro ciao a tutti alberto grazie a voi buona giornata grazie per tanto grazie a voi